DAO, Decentralized Autonomous Organization. In questo video imparerai tutto ciò che devi sapere in maniera semplice, non come gli altri video che dicono sempre le stesse cose in maniera così senza spiegare a fondo. Cercherò di farvi capire in maniera semplice tutti i concetti complessi dietro il concetto di DAO. E lo farò facendo esempi, insomma dandovi tutti quei collegamenti logici utili a capire veramente cos'è una DAO. Finito il video saprai tutto. Mi sono fatto una piccola agenda, incominciamo da cos'è una DAO. La DAO in realtà sta per Decentralized Autonomous Organization, come ho detto, quindi è una organizzazione decentralizzata autonoma. Allora adesso do una definizione canonica e poi, tramite un esempio, capiremo cosa effettivamente è una DAO. La definizione canonica è questa, la DAO è un sistema sulla blockchain che le persone possono utilizzare per coordinare e governare se stesso senza la necessità di un sistema centralizzato. Nella pratica è questa organizzazione che ha delle regole autoeseguibili, quindi nessuno deve eseguirle queste regole, in maniera decentralizzata e sulla blockchain. E questo significa che una volta creata questa organizzazione e le regole, nessuno può cambiarla senza coinvolgere prima tutti gli altri. Facciamo un esempio abbastanza semplice. Prendo ad esempio il progetto che stiamo sviluppando, Dream Hunters. Con Dream Hunters un talento può finanziare il proprio sogno tramite una collezione di 10.000 e 1 NFTs che formano una DAO, una Decentralized Autonomous Organization. Quindi le persone possono acquistare uno di questi NFTs, che rappresenta una parte del sogno del talento, forniscono i soldi necessari al talento per seguire il suo sogno, però questi soldi non è che vanno al talento, vanno nella DAO, in una organizzazione di cui tu fai parte, perché hai le NFTs, in questo caso un token non fungibile, che ti dà accesso a questa DAO, e i soldi che sono dentro la DAO non è che sono del talento e basta, sono della DAO. Quindi per sbloccare questi soldi bisogna coinvolgere tutti i partecipanti. Ci sono delle regole autonome che vengono eseguite. Quali sono queste regole autonome che vengono eseguite? Ad esempio, se effettivamente il talento crea la propria collezione in Dream Hunters, il 5% dei soldi raccolti vanno alla community stessa di Dream Hunters per aver fatto quella selezione, hanno fatto un lavoro, ovvero selezionare i talenti all'entrata, quel lavoro viene riconoscito in modo automatico, una regola automatica, che ritorna indietro il 5% a chi effettivamente ha fatto questo. Ed è bellissimo che ci pensiamo a questo meccanismo, perché pensate nelle grandi organizzazioni. Non serve che un tizio mi dice, si hai fatto gli straordinari. La DAO legge automaticamente, per esempio, il cartellino dell'umano, e automaticamente, senza il bisogno di un contabile, calcola tutto e ti arriva direttamente lo stipendio con tutti gli straordinari calcolati, senza che nessuno può fare un errore, perché è automatico. E attenzione, una cosa bella è che nessuno può cambiarla, perché effettivamente vi è uno smart contract, che non è altro che un pezzo di codice messo su blockchain. Guardate se non avete visto il video in cui ho spiegato di smart contract a mia nonna. Questo smart contract è un codice che stabilisce le varie regole della DAO e non può essere cambiato, sta lì. E questo è il bello, è il bello della blockchain, è il bello delle DAO. Ora, in realtà, l'organizzazione si può cambiare, però, come si può cambiare? Solo se tutti sono d'accordo nel cambiare le regole. Ok, quindi c'è un voto. C'è un voto per tutto. Ad esempio, abbiamo nella nostra collezione, il talento può raccogliere appunto dei finanziamenti, questi finanziamenti li può spendere solo se la DAO è d'accordo. Non è come altre piattaforme di crowdfunding in cui io ti do i soldi e il talento può spenderli in alcol e donne. In questo caso no, perché la DAO avrà un voto. Ok, li voglio spendere per qui? Ok, io voto sì, 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 e allora li spendiamo in quel modo. Se effettivamente vediamo che il talento poi li spende in altri modi, ovviamente la DAO non eroga più il consenso nella spesa. e quindi è abbastanza interessante anche come un sistema di gestione di tesoreria. Immaginate un'organizzazione in quale c'è il tesoriere che poi perde tutti i soldi, quante volte l'avete sentita questa storia? Prende tutti i soldi e poi se ne scappa oppure fa delle spese che non dovrebbe fare, eccetera, eccetera. In questo caso l'organizzazione decide come spendere quei soldi. Immaginate che dobbiamo io, tu e altri cinque amici vogliamo creare un piccolo fondo di investimento, dove tutti vogliamo dare effettivamente la nostra opinione, vogliamo scegliere cosa investire e cosa no. Quindi mettiamo ad esempio tre Ethereum tutti nel piatto, ok? Questi tre Ethereum fondamentalmente decidiamo appunto una volta il wallet, quindi mettiamo che siamo cinque persone e quindici Ethereum, diciamo cosa investire, in cosa investire. Mentre effettivamente nell'organizzazione c'è un tesoriere che ha quel denaro e può farci un po', se vogliamo, quello che vuole in maniera disonesta, no? In questo caso c'è un community wallet e se si decide, se la maggioranza decide effettivamente, poi le regole possono essere stabilite ad hoc, possiamo dire la maggioranza piuttosto che qualsiasi altra cosa, insomma, ci sono diverse complessità che sono un po' dalla finalità di questo video. Se la maggioranza dice, sì, investiamo in, non so, in QCATS, compreranno un QCATS, un NFT, un QCATS. Investiamo in ETF, investiamo in dollaro, si investerà nel dollaro, poverini quelli che non capiscono niente, però se vogliono è la DAO che dice. Quindi capiamo che questo meccanismo è molto importante, perché il bello di tutto questo meccanismo è che non può essere corrotto, perché quando poi il software, lo smart contract, quindi la DAO sarà sulla blockchain e in modo decentralizzato non c'è nessun modo per cambiarlo, se non con un voto esplicito da parte della maggioranza. Facile. Se qualcuno fa qualcosa dentro la DAO contro le regole della DAO stessa, ad esempio spende soldi senza il consenso, semplicemente il sistema non lo permette, quindi la fiducia umana è stata messa, presa e messa da parte, quella è la bellezza. Nessuno può cambiare qualcosa all'interno delle organizzazioni a meno che tutti o la maggioranza non sia effettivamente d'accordo, poi vi ho detto le regole sono ad hoc. Ad esempio il talento, se decide con il nostro sistema Dream Hunters di comprarsi le scarpette nuove, se le comprate il mese scorso e lo fa solo perché vuole le scarpette più belle, magari dice no, senti, zio, le priorità sono alte, non le scarpette, quindi non si comprano le scarpette, semplicemente. La DAO risolve effettivamente uno dei più grandi problemi che sono stati evidenziati in economia, il problema del principal agent. Che cos'è questo problema? È il problema tra il principale e l'agente. Allora, faccio sempre questo esempio per spiegare questo problema. Io ho una casa e decido di affidarmi a un agente immobiliare per vendere la mia casa. Ipotizziamo che la mia casa valga 250.000 euro. L'agente immobiliare, il suo obiettivo è diverso dal mio, perché il mio obiettivo è quello di venderla a un prezzo maggiore. L'obiettivo dell'agente immobiliare è quello di vendere la casa velocemente, perché lui ha tante offerte e cerca in modo veloce di avere più rotazioni di immobili. Perché? Perché fondamentalmente se lui prende il 10%, il 10% su 200.000 euro è simile che il 10% su 250.000 euro. Perché? Perché per venderla a 200.000 euro lo fa subito, per venderla a 250.000 euro lo fa con molta, molta difficoltà. Se per vendere a 200.000 euro ci mette, che ne so, tre giorni, per vendere a 250.000 ci mette sette mesi. Quindi dice, non so che non vale la candela, quanto tempo devo spendere qua. La sottovendo, prendo un po' di meno, però sti cavole. Cioè, la differenza in denaro sui 250.000 euro non giustificerebbe tutto lo sforzo in tempo che dovrebbe fare. E quindi che succederà? Che il nostro agente immobiliare non farà il nostro interesse, farà il suo interesse. E questo è il problema principale agente. In questa DAO è impossibile perché effettivamente la DAO allinea gli obiettivi personali con il gruppo. Perché? Perché effettivamente il beneficio non l'avrà solo una singola persona, ma l'avrà il gruppo in maniera completa. E non può comportarsi in un modo opportunistico perché effettivamente gli serve l'approvazione di tutti. Allora vi dilete, allora è democrazia, eleggiamo democraticamente qualcuno e poi questo qualcuno è stato eletto in maniera democratico. E no, c'è un problema, perché anche se una persona è stata eletta in maniera democratica, ha i propri obiettivi, ha i propri scopi. C'è il problema del principal agent. Lui avrà sempre i suoi scopi, ad esempio ipotizziamo che eleggiamo un politico, il politico magari già un amico, che lo ha sopportato nella campagna politica, in maniera abbastanza logica, poi adesso non ci nascondiamo dietro un gristino, andrà a favoreggiare magari in diversi aspetti gli amici che l'hanno sopportato. In questo caso non potrebbe, perché è la DAO che decide. E quindi tutto questo sarebbe bellissimo applicato alla politica, la politica fondamentalmente non lo vuole applicare perché, insomma, non sappiamo bene. Ora abbiamo capito che la DAO non è altro che un'organizzazione autonoma, decentralizzata. Prendiamo l'enfasi su autonoma, che significa che sono regole automatiche, non c'è un umano che deve fare tutte le cose, è tutto automatizzato. Capiamo come entrare in questa DAO. Nel caso dei Dream Hunters, per esempio, è un token-based DAO. Ed ecco che qua nella scaretta siamo arrivati al punto 5, al punto 6, la differenza tra token-based e share-based. Il token-based fondamentalmente, per entrare nella DAO, non c'è bisogno di permesso. L'importante è che tu hai questo token, lo compri oppure lo acquisisci in qualche modo e hai un voto in questa DAO. Nel caso, nel nostro caso, permettiamo a talenti di creare appunto DAO da 10.000 NFT, se tu compri queste NFT, se sei nella DAO di quel talento, supportandolo. E supportandolo dal punto di vista finanziario, ma anche a questo punto decisionale. Perché deciderai anche con lui tutte le decisioni strategiche importanti, come spendere le somme di denaro, come partecipare alla sua vita, alla sua progressione, se vogliamo, no? A livello proprio di carriera. Ed è bello, se vogliamo, no? È un meccanismo che crea diverse opportunità bellissime di allineamento di obiettivi che possono solo giocare al mondo. Nel nostro caso, Dream Hunters, è quello di non spiegare il talento nel mondo. Perché c'è talmente tanto talento nel mondo che in realtà non dovrebbe andare sprecato, ok? Come facciamo a non fare lo spiegato? Allineiamo gli obiettivi degli investitori, delle persone che effettivamente vogliono spendere 2-3 dollari, 5 dollari, 100 dollari, con gli obiettivi del talento, ok? Se il talento cresce, il mio NFT cresce, quindi fondamentalmente posso farti il bene e allo stesso tempo guagna. Ed è interessante questo concetto. Lo possiamo fare solo tramite concetti come la DAO. Ora, i token possono essere acquistati in exchange, centralizzati o decentralizzati. Quindi tu puoi effettivamente acquistare questi token e entrare nella DAO. Di solito, grazie a questi token, tu hai un voto e puoi in qualche modo gestire la governance magari di un'organizzazione. Uno dei primi, una delle prime DAO, le più famose, che è stata creata con questo sistema è MakerDAO. Fondamentalmente, appossiedendo appunto un coin, un MKR, hai effettivamente un'influenza sull'evoluzione del protocollo stesso. A differenza dei token based, i shared based non puoi effettivamente entrare senza un prima, un semi permesso. Cosa che devi fare? Devi fare un'offerta, un'offerta alla DAO. Dici, guarda, questo è il mio incentivo, è una mia proposta, quindi devi in qualche modo fare una piccola selezione, ok? E se effettivamente ti accettano, ok? Entrerai in questa DAO. In questo caso si fa una piccola selezione, perché si vede sia il valore, mettiamo adesso in CryptoWood economico che puoi dare dal punto di vista finanziario, sia quanto con la proposal, con la tua proposta di dire come contribuisco all'organizzazione, possono capire se sei effettivamente la persona che può spingere il protocollo verso l'avanti e se è la persona degna di avere un voto in quella DAO oppure no. Quindi diciamo che c'è una piccola selezione, piccola, grande, piccola, grande selezione all'ingresso. Una delle DAO più famose è MalokDAO, che fondamentalmente, e qui leggo, serviva per finanziare i progetti in Ethereum. Quindi chiedevano un tributo per una proposta di membership, così che possono capire se quella persona abbia effettivamente l'expertise, e quindi abbia la conoscenza per contribuire in meglio e il capitale ovviamente per utilizzare dentro la DAO, per poi sviluppare il protocollo stesso. Questa seconda tipologia di DAO è utile per capire se qualcuno che sta parlando ha effettivamente le credenziali per farlo e effettivamente il capitale da poter mettere nel piatto per poi avanzare insieme tutti verso l'unico obiettivo. Questo ragazzi è quanto? Quindi se domani vi dicono che cos'è una DAO, che cos'è, cos'è, DAO sta, ripetiamo, Decentralized Autonomous Organization, un'organizzazione decentralizzata autonoma. La definizione di DAO è questa, la DAO è un sistema sulla blockchain che le persone possono usare per coordinare e governare se stesse senza la necessità di un sistema centralizzato. Ognuno che è dentro la DAO ha un voto, può proporre una cosa, e le cose si possono proporre solo se la maggioranza è d'accordo oppure le regole imposte nella governance della DAO stessa. E tutto si appoggia sul concetto di smart contract, che è un software che è registrato sulla blockchain, una volta che è stato sulla blockchain nessuno lo può cambiare, a meno che non c'è la votazione. Poi vi sono delle regole autoeseguibili, Autonomous perché sono delle regole che sono autoeseguite, non è che c'è un umano che mi dice allora il 5% va qua il 7%, no, tutto autoeseguito automaticamente. Immaginate una DAO applicata, qui vi do la metafora da ricordare, una DAO applicata al sistema di stipendi in azienda, tutto viene fatto automaticamente senza i contabili, ok? E significa che ogni proposta di cambiamento, ogni proposta andrà ad essere validata da un voto della community, quindi c'è una governance completamente decentralizzata, non abbiamo più la piramide con CEO, COO, siamo bla bla bla, abbiamo una nebulosa di attori che vanno a contribuire nella governance. Ora, diciamo che queste sono delle ancora definizioni un po' spure, non c'è stata una definizione chiara dagli enti, diciamo, che gestiscono tutte queste definizioni tecnologiche, se non mi ricordo, c'è un ente, non l'ho ancora rilasciata. Però diciamo che questo è un po' quello che nel panorama mondiale, ok, viene considerata la definizione di una DAO. C'è ancora molto da scoprire nel mondo delle DAO, è molto più complesso, ma ora avete tutti gli strumenti per andare al pub e sfoderare le vostre nuove informazioni, le vostre nuove conoscenze su cosa è una DAO e avete tutti gli strumenti per parlare con gli esperti del settore e capire di cosa effettivamente stiano parlando. Detto questo, io spero di essere stato utile, fatemi sapere se sono piacevoli questi video un po' più teorici, in cui vado a spiegare i concetti base della blockchain, come se li stessi spiegando a mia nonna. Spero di essere stato quanto più chiaro possibile, se non sono stato chiaro, lasciami un commento, ma lasciami un commento anche se sono stato chiaro per, non so, qualsiasi cosa. I commenti sono molto ben visti a YouTube, mi faresti un bel piacere perché mi daresti più esposizione. Iscriviti al canale e accendi la campanella perché alcune volte faccio dei video che sono molto sensibili al tempo. Detto questo, segui per luchetti. Yeah, 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 feature presentation Fired up the pistons for the prince, I feel like Tayshion Business trips to Hollywood, I don't do no vacation When the drop go platinum, I'ma hit the hesitation Anyone who doubt it, I go lila with the blazing